Anche ad Atene il fenomeno degli affitti turistici è ormai una realtà. Quest'estate hanno sfondato nella sola capitale greca le 8.000 offerte. Un boom che ha spinto le autorità a imporre l'iscrizione degli appartamenti disponibili su un sito, in modo da far pagare le tasse. Faremo in modo che questi luoghi vengano registrati in elenchi dedicati. Chiunque voglia affittare casa prima dovrà registrarsi. Questo è parte dell'azione del Governo per combattere l'evasione fiscale, il commercio illegale e la corruzione. L'aumento degli affitti turistici si è evidenziato in maniera esponenziale dal 2013, mettendo a rischio l'esistenza di storici e piccoli alberghi, secondo i rappresentanti del settore. Questo fenomeno fa male allo Stato, alle entrate pubbliche, al lavoro, alla competizione, creerà un contesto economico non corretto. Un contesto che finirà per nuocere grandemente alle aziende turistiche greche. Il mercato degli affitti turistici da parte di privati, secondo gli albergatori, sta causando la perdita di 15.000 posti di lavoro nel settore ricettivo. La Grecia non è il solo paese che ha cercato di regolamentare il mercato degli affitti turistici. In Italia i proprietari degli hotel chiedono, vengano imposte nuove tasse per riequilibrare la concorrenza. In Spagna le autorità hanno istituito un sito web dove è possibile denunciare gli affitti non dichiarati. A Barcellona, quarta destinazione preferita al mondo, sono stati censiti 20.000 appartamenti in affitto per i turisti, nel 2015 per un giro d'affari di 740 milioni di euro.